Il risotto agli agrumi è un piatto delizioso che combina la cremosità del risotto con la freschezza degli agrumi. Ingredienti 320 g di riso, arborio, carnaroli o vialone nano, un litro di brodo vegetale, due arance non trattate, un limone non trattato, uno scalogno, un bicchiere di vino bianco secco, 40 g di burro, olio extravergine di oliva, 50 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Inizia grattugiando finemente la scorza di un'arancia e del limone, poi spremi il succo e metti da parte. Taglia lo scalogno finemente e soffriggilo in una padella con un filo di olio extravergine di oliva finché non diventa trasparente. Aggiungi il riso e tostalo per qualche minuto finché non diventa lucido, poi sfuma con il vino bianco. Ricorda di iscriverti al canale per non perdere nessuna delle nostre ricette e per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità. Una volta che il vino è evaporato inizia ad aggiungere il brodo vegetale caldo poco alla volta, mescolando spesso per evitare che il riso si attacchi. A metà cottura aggiungi il succo e la scorza grattugiata degli agrumi. Continua a cuocere aggiungendo brodo quando necessario, fino a quando il riso non è al dente ma ancora cremoso. Togli il risotto dal fuoco e manteccalo con il burro e il parmigiano grattugiato. Aggiusta di sale e pepe. Lascia riposare un minuto, poi servi il risotto agli agrumi bello caldo. Il risotto agli agrumi è un piatto piuttosto moderno nella cucina italiana, ideale come piatto primaverile per la sua freschezza e aromaticità.